Mi fa scarare bene per il carattere che la squadra ha messo in campo, per la consapevolezza, anche se ha avuto 15 minuti nell'inizio del squadratempo in cui si è un po' smarrita e ha subito stresa, poi ha capito che comunque la partita la poteva vincere, la poteva portare a casa e ci ha trovato con tutta la forza. Diciamo che la squadra se va cambiando l'allenatore è chiaro che aveva dei problemi e i problemi sono visti tutti oggi, sicuramente non l'abbiamo fatto bene e sicuramente dobbiamo recitare mea culpa e probabilmente cambiare registro.